Ah sì, è ora di iniziare il video. 10 borghi italiani veramente, ma veramente belli e che in pochi conoscono. Sei già iscritto o iscritto al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non l'hai ancora fatto, il pulsante rosso iscriviti qui sotto, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella di a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare. Da inizio 2020 è anche possibile abbonarsi a questo canale YouTube con una piccola cifra mensile che aiuterà a sostenere il canale, riceverai tanti vantaggi, dei video in esclusiva solo per te, la possibilità di essere una volta al mese ospite del sottoscritto durante la diretta di giovedì in viaggio a giovedì sera ore 21, tante possibilità, tante serie che hanno un costo per gli altri ma che per voi sono gratuite, insomma una marea di vantaggi. Ti spiego tutto in un breve video che trovi qui sotto in descrizione. E ora facciamo questo giro per la nostra bella Italia a scoprire dieci borghi che sono poco noti in realtà, ma davvero, davvero belli. Faccio un pochino di premesse prima di partire. Allora, intanto io ti dico il borgo che è bellissimo e va visitato, ma non dimenticare anche tutta la zona limitrofa, tutta la zona e i paesini intorno a quel borgo, perché se quel borgo è molto bello, anche tutta la zona intorno merita davvero una visita. Seconda premessa e poi partiamo, era chiaramente impossibile nominarli tutti, mi nomino dieci, quindi dieci anche zone, però ce ne sono tantissime. Ho cercato di andare da nord a sud, dandotene dieci, dandoti dieci idee. Chiaramente rimangono fuori una marea di bellissimi borghi poco conosciuti. La parte dei commenti qui sotto in questo video è dedicata proprio a questo e chiedo a te un aiuto per creare un contenuto fra il mio video e la parte commenti ricco di consigli. Quali sono i borghi che vorresti consigliarci? Scrivili qui sotto nei commenti e raccontaci anche il perché. Partiamo dal Trentino con Tenno e il suo lago. Siamo a due passi da Riva del Garda, quindi siamo anche vicino al lago di Garda. Stiamo parlando di Tenno che ha il suo piccolo lago e ha anche un bel castello all'interno, al centro del borgo. Siamo in provincia di Trento, facilmente raggiungibile anche dall'autostrada del Brennero e se vuoi goderti le acque del suo lago, che sono di colori pazzeschi a seconda della luce che abbiamo, c'è anche la possibilità di fare un giro intero del perimetro del lago, sia a piedi che in bicicletta, con dei sentieri ottimamente attrezzati. Insomma, questa è una zona assolutamente da scoprire e Tenno è un borgo veramente carino. Per il secondo consiglio gioco in casa e ti dico Votigno, che si trova sulle colline Mattilliche, provincia di Reggio Emilia. Per intenderci, sulla 1 all'uscita terre di Canossa, 30 minuti di auto e sarai a Votigno. Ci sono intorno tanti borghi più conosciuti appunto della storia di Mattilliche di Canossa, come Canossa appunto e la sua rupe, i resti del suo castello, che è soltanto una rupe ormai, oppure il castello molto ben conservato di Rosseina, ma anche il castello di Bianello, insomma è zona di castelli medievali, di castelli veramente, veramente belli, con tanta storia e tanta cultura e si mangia da Dio. Però non dimenticate questo piccolo borgo che è Votigno, perché ha una storia particolare. E' anch'esso un borgo medievale, completamente restaurato negli anni 90, ma ha la curiosità di essere diventato proprio negli anni 90 la casa del Tibet, la prima al di fuori del Tibet, la prima in Europa ed è stata inaugurata anche dal Dalai Lama. C'è la presenza costante tutto l'anno di monaci tibetani ed è un luogo di pace assoluta. E' vero anche che negli ultimi anni è diventato luogo di cerimonia e di erenti, ovvero se vuoi sposarti lì lo puoi fare e quindi in questi casi va evitato, però normalmente è un luogo di pace assoluta, che incrocia la tradizione tibetana buddista alle bellezze di un borgo e la tranquillità di un borgo collinare medievale ristrutturato. Rimaniamo in Emilia per il terzo suggerimento e ti dico Dozza. Siamo vicini a Imola, circa una decina di chilometri da Imola, quindi sulle colline bolognesi. Oltre ad essere anch'esso un bellissimo borgo medievale, mantenuto bene con un piccolo centro storico, ma veramente veramente bello, è da anni chiamato il paese degli artisti. Perché? Perché il suo centro storico è stato decorato, abbellito e arrecchito di tanti murales. L'amministrazione comunale ha dato la possibilità a tanti artisti di creare la propria opera, chiaramente in linea con lo stile del luogo, ed è diventato un paese colorato, un paese veramente di contrasti, che è unico nel suo genere, è un consiglio spassionato, è davvero qualcosa di poco frequente da vedere in Italia. Liguria, Liguria per un altro suggerimento ti dico Triora. Non è così sconosciuto, soprattutto al nord Italia, è il paese delle streghe. In realtà un paesino, un piccolo borgo medievale, arroccato a 800 metri sulle montagne che salgono velocemente dal mare, come solo in Liguria succede. Ma perché paese delle streghe? Qui c'è una storia importante. In questo paese, nel XVI secolo, c'è stato uno dei processi più importanti, nel nostro paese d'Italia, alle streghe appunto, e purtroppo finì con una condanna al ruogo delle streghe stesse. Viene ricordata questa cosa tutti gli anni, anche secondo me, e deve essere un monito per tutti, per ricordare la stupidità e l'ignoranza che abbiamo avuto in determinati periodi storici e che continuiamo a avere anche tutt'oggi. Quindi svegliamoci perché non possiamo fare gli stessi errori del passato. Chiaro, stiamo parlando di bruciare delle persone, però siamo stupidi in certe convinzioni e certe credenze anche in questo momento. Bellissima l'idea dell'amministrazione comunale di Triora che ha deciso di creare degli itinerari, a seconda dell'argomento, che ti permettono di scoprire il centro storico del paese e soprattutto anche di vedere tramite delle terrazze dei bellissimi panorami che digradano e vanno fino al mare. C'è anche un itinerario per bambini. Siamo a metà di questa classifica con la numero 5, ti dico Bagno Vignoni, se ti dico però Val d'Orcia, la Val d'Orcia è la copertina della Toscana nel mondo. Avete presente le foto con i viali e i cipressi? Benissimo, qui stiamo parlando di Val d'Orcia, però all'interno della Val d'Orcia ci sono dei piccoli borghi che sono poco conosciuti, meno gettonati di altri che sono stra abusati e stra visitati. Appunto uno di questi è Bagno Vignoni, località termale già in epoche veramente passate. Sto parlando di un borgo piccolissimo, sto parlando di qualcosa di molto particolare, perché ho una manciata di case medievali che si arroccano intorno al centro del paese dove è presente anche una vasca termale, proprio al centro del paese, una vasca rettangolare che permette soprattutto nelle stagioni fredde di avere delle atmosfere incredibili. Vi faccio solo l'esempio della serata fredda, magari già il sole tramontato da pochi minuti, il vapore che sale da tutta la vasca, perché è una vasca molto grande, ti permette di avere un'aura, un'atmosfera veramente magiche. A pochi chilometri da Bagno Vignoni ti ricordo anche Radicofani, questo è un consiglio in più, diciamo l'undicesimo. Sempre in Val d'Orcia, un borgo poco conosciuto, soprattutto per chi non frequenta la Via Francigena, ma è un borgo di un'importanza storica, con una storia incredibile. Vi dico solo Ghino di Tacco, che comandava in questo borgo, ma non vi dico altro, voglio che andiate ad approfondire la storia di Radicofani e dei suoi personaggi. Numero 6, Rocca Scalegna. Siamo in Abruzzo, in provincia di Chieti, tra le vallate del fiume Sangro. Abbiamo un castello, Rocca Scalegna, il castello di Rocca Scalegna, che sembra direttamente, e non lo dico tanto per esagerare, sembra direttamente uscito da un film fantasy, da una serie, da qualcosa di medievale e non toccato, e non costruito. È proprio così. Ti faccio un piccolo spoiler, qui andrai a scoprire la storia di Corvo de Corvis e dell'editto dello Ius Primenoptis, e di come un marito si travestì da sposa novella e uccise appunto Corvo de Corvis e da lì la leggenda, ma che è anche storia. Insomma, è tutto ciò che potrai imparare leggendo o seguendo una visita guidata del castello di Rocca Scalegna. Un pezzo di storia che secondo me è poco conosciuta, ma incredibile. Ora andiamo in umbria per questo settimo consiglio, che però per me è difficile da dare. Parlo della scarzuola. Che cos'è la scarzuola? Veramente non voglio non dirti nulla, ma cercala in rete. Siamo nel comune di Montegabbioni e la scarzuola è un luogo che io non so come altro definire, se non magico, esoterico. Un luogo pazzo. È nato dal genio e follia di Tommaso Buzzi, che è un famoso architetto milanese. Lui qui alla scarzuola ha creato la sua città ideale. Qui c'erano due strutture esistenti, vecchie, un santuario e un'altra struttura, e lui intorno vi ha creato la sua città ideale. Ricca di rimandi esoterici, ricca di rimandi energetici, insomma, lo ripeto, non è facile da spiegare. Insomma, non so veramente che cosa dirvi della scarzuola, perché è un luogo talmente particolare che o vi rimane dentro quando lo visitate e diventerà uno dei vostri luoghi del cuore, come è successo per me, oppure non lo capirete. Ma non è che non lo capirete perché non avete le capacità per capirlo, no, è perché è un luogo che potete non accettare. È un luogo davvero particolare che può anche mettervi in crisi mentre lo visitate. Lo so, sembrano parole al vento, ma va visitato. Cioè, se provate a visitare la scattuola, poi mi saprete dire. E ora andiamo in Lazio, nel cuore della Tuscia, siamo a Bomarzo, un altro luogo assolutamente particolare che può essere etichettato come luogo per bambini. Ti parlo del Parco dei Mosta di Bomarzo, il Sacro Bosco, come veramente si chiama di Bomarzo, dove sono stati inseriti una marea di strutture di pietra veramente iconiche, simboliche, esoteriche. Anche qua, o lo si prende come quasi un parco per bambini, un'attività per bambini, e diventa divertente, oppure si scava un po' più a fondo e si va a capire i significati nascosti fin dove si può di queste opere. perché non sono opere così banali, non sono opere così fanciullesche, ma sono opere cariche di un'energia e di un simbolismo veramente forte. Scendiamo alla nostra penisola e andiamo in Puglia. Cisternino è vicinissimo a luoghi super conosciuti, ad esempio come Alberobello, straconosciuto, oppure la bellissima Ostuni, altrettanto conosciuta. Cisternino è conosciuto un po' meno. Era salito in realtà gli onori delle cronache qualche anno fa, precisamente otto anni fa, quando il calendario Maya ci diceva che doveva finire il mondo e nel famoso 2012 si era diffusa la voce anche all'estero che Cisternino per una sorta di incrocio energetico fosse uno di quei luoghi che si sarebbe salvato dalla fine del mondo. Vabbè, tutte fandonie, non è finito il mondo e non finirà, ma Cisternino rimane in realtà un borgo da visitare perché ha un centro storico bianco accecante con le sue case classiche, una cucina pazzesca perché siamo in Puglia e ci possiamo godere una cucina pazzesca, siamo a due passi dal mare anche. È proprio il mare che puoi vedere in lontananza dalle tante terrazze del paese ma che in primis ti danno un'occhiata pazzesca su tutta la Valle d'Itria, sui vari Oliveti e su tutto ciò che incarna e definisce la Puglia, regione di una bellezza quasi accecante. Per l'ultimo borgo ti porto in Campania a Sant'Agata de Goti. Piccola premessa, è l'unico borgo di questi dieci che non ho mai visitato, non l'ho mai visitato ma ho inserito perché sono stato spinto a inserirlo da conoscenti di cui mi fido tantissimo e che mi hanno detto la devi inserire in una classifica di borghi poco conosciuti perché questo merita davvero. Sant'Agata de Goti è bandiera arancione ed è una terrazza, almeno il centro storico, costruito sul Tufo. Sembra quasi una terrazza sospesa sulla natura e sulla roccia di Tufo. Beh, guardando le foto che ho trovato in rete ti dirò che mi è venuta una bella voglia di andarla a visitare perché ho visto questa proprio quasi sospesa ma anche po' precaria, mi sembra quasi precaria, struttura di case del centro storico che però guardano quasi l'infinito. È una cosa veramente assurda, particolare, che avevo già visto e che ho già visto in altre zone del Tufo dell'Alto Lazio o della Bassa Toscana ma qui secondo me raggiunge un bel livello, raggiunge un livello molto alto. Quindi ho prontamente inserito Sant'Agata de Goti nella mia wish list, nella mia lista dei desideri. Abbiamo finito questa breve cavalcata di taglia alla scoperta di dieci bordi poco conosciuti, non troppo gettonati ma veramente, veramente belli. Come ho detto all'inizio è una lista in divenire, mi raccomando, aggiungi quelli che vuoi qui sotto nei commenti, spiegaci perché, perché voglio che questo video diventi proprio una raccolta importante di consigli e di idee di viaggio. Ti ricordo di iscriverti al mondo Viaggio Vero con il link che trovi qui sotto completamente gratuito e anche qua ci sono tanti 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 vantaggi. Chiudo con i miei social media la pagina facebook di Viaggio Vero.com fai mi piace e diventa fan anche lì, su Instagram mi trovi come Chiocciola Viaggio Vero e ci sono anche le storie giornaliere dove parlo di altri argomenti rispetto a quelli che trovi qui sul canale YouTube. Se questo video ti è tornato utile o ti è piaciuto pollicioni verso l'alto ai tuoi piaciuti il canale mi fai tanto tanto felice e ti ringrazio se non sei ancora iscritto e iscritta qui sotto vedi in questo momento la faccione sorridente che ha anche il logo di Viaggio Vero ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti e le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero